Ciao, sono impegnato. Lascia un messaggio dopo il segnale. Ciao, ti cercavo per la riunione a scuola, ma il telefono è spento o non riceve, non so. Paolo è a nuoto. E allora, visto che ci sono solo io qui, parlo da sola, come sempre. E ti dico una cosa. Grazie. Grazie per tutto quello che hai fatto, prima e dopo la separazione. Quando il mondo ci crollava addosso e tu ci facevi da scudo. Ma con quali forze poi? Io non lo so, non riesco nemmeno a capirlo. Io ricordo solo le paure, il senso di vuoto, la solitudine che aumenta in mezzo alla gente. E tu? Non hai mai fatto mancare il sorriso a nostro figlio. Lo hai rassicurato senza mai usare una parola contro di me. Gli hai spiegato che a cambiare sarebbero state le abitudini, non i legami. E poi? Sei stato capace di fare un passo indietro. Hai accettato che un altro uomo entrasse nella sua vita, nella sua educazione. Non hai criticato, giudicato? Io forse non ne sarei stata capace. Non lo so. Non credo. Fra poco tornerà. E come al solito verrà qui a saltare sul divano. E mi racconterà qualcosa di bello e di meno bello della sua giornata. E mi parlerà di te. Il suo papà migliore al mondo. Ah, eccolo. Eccoli. Ciao. Devi arrivato. Allora, come è andata? Gli? Allora, quando è vasto non basta? A me è arrivato. Grazie a tutti.